ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti oggi è un nuovo video oggi come vedete siamo in come vedete non mi ricordo come si chiama non mi ricordo è una challenge di essere poliziotti o cattivi non avrete io scelto poliziotta mi serve una pistola non mi ricordo non mi ricordo no 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 come ti permetti come ti permetti come ti permetti Sto recuperando un incitare con il Mertonare della polizia No 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 no, starresto, starresto No, ma hai dovuto vedere altri 3 no 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 Non so se... ...che le altre persone... ...che voi hanno in mezzo... ...perché mi dovete aver... ...medan che hanno un po' più... ...sì... ...solo se vi faccio... ...erà... 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 Grazie.